Senti, vorrei chiederti una cosa. Di che si tratta? Ecco, i miei amici vanno in campeggio e vorrei andarci anch'io. Posso, mamma? No, Lucy, non credo che sia una buona idea. Dai, non è giusto. Ti prego, mamma. Cerca di capire, voglio solo proteggerti. Vado a casa a piedi. Lucy, aspetta. Lucy. Lucy! Allora? Che ne pensi? Tess, hai preso le pillole. Ansia, depressione, disturbi del comportamento, allucinazioni. Ha passato tutta la vita entrando e uscendo dagli ospedali. è stato come se qualcuno ti avesse spinto a terra e non riuscissi a muoverti. Il rumore... Lasciami in pace! Che tipo di rumore? Ti prego, basta! Ti prego! Ti prego! Tess! 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 Ti prego! Ti prego! Ti prego! Tess! 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 Non mi fermerò, non mi fermerò. Non mi fermerò.